Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Hardware Engineers Allora, siamo di nuovo qui ragazzi nel nostro bellissimo negozio Ci eravamo formati nella scuola puntata con un paio di problemi monetari più che altro Visto che abbiamo fatto dei cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda diciamo il nostro spazio interno Dobbiamo ancora sistemare varie cosette, ma ce la faremo, non preoccupatevi In ogni caso, nella puntata di oggi andremo ancora avanti, visto che ho fatto un sacco di aggiornamenti E sono felice finalmente di poterci giocare di nuovo, visto che lo avete chiesto anche voi nei commenti Ovviamente cercherò di portare al massimo una o due puntate alla settimana, però spero comunque possa continuare con il piacere E direi subito di iniziare con la nostra puntata Quindi prendiamo l'ordine di Steven, che vorrebbe un Tashibo SH402 Vediamo un po', dovrebbe essere, credo, un'unità ottica per forza Il 4-2, giusto, perfetto, quindi guadagniamo pochissimo rispetto a quello che ovviamente possiamo fare Però accettiamolo per il momento E andiamo quindi ad aspettare un paio di altri clienti così per andare avanti Fra poco raggiungeremo anche il livello 3 E cosa significa che potremo ufficialmente mettere dei nuovi points dentro al nostro skill tree E potremo avere quindi di conseguenza più facilità anche per quanto riguarda le consegne Infatti, se vi ricordate bene, per quanto riguarda le nostre skill Siamo messi per ora così Vorrei un attimo sistemare tipo lo spazio di inventario e anche le consegne Così di non avere problemi e cose del genere Quindi sta arrivando anche il nostro corriere così possiamo segnare a Steven ciò che ha richiesto E spero che qualcun altro arrivi in negozio Anche perché per il momento non vedo nessuno Ecco qua il nostro corriere, perfetto Recuperiamo il suo ordine E lo diamo a Steven Ecco qua, Steven direttamente te lo posso dare No, devo forza andare sempre in inventario E ci siamo, perfetto Terminiamo quindi anche questo C'è un bel po' di soldi con la soddisfacere tutta utile È perfetta E aspettiamo il nuovo ordine così da poter un attimo capire cosa fare Vediamo un po' nessuno entra nel nostro negozio oggi Sono persone orrende effettivamente Quindi speriamo in realtà che in qualche maniera vengano da noi Su su abbiamo un sacco di pezzi belli qui nel negozio Abbiamo cpu di ogni tipo Abbiamo la ram Non mi interessa? No, guardate c'è roba bellissima, fantastica Ecco un cliente l'abbiamo fatto venire dentro E dice che è un po' lento Va bene, accettiamo un attimo l'ordine E capiamo un po' cosa vorrebbe in sostanza Allora vorrebbe miglioramento per quanto riguarda la potenza di calcolo Ovviamente quindi processore Abbiamo la ram da cambiare E prestazioni generali di richieste Quindi dobbiamo un attimo modificarlo Vediamo un po' più che altro che cosa ha esattamente dentro il suo computer Penso abbia bisogno più di tutto di levare questa Così lo mettiamo qua Ha un E3 2360 Ok Se io adesso lo levo, lo metto qua Vediamo un attimo come è fatto queste tre E' un dual core a 3600 Io dovrei avere qua un E5 Un quad core a 2500 Potrei anche metterlo Che sarebbe anche una buona idea Quindi un attimo se mettiamo questo Apriamo ovviamente pasta termica Cosa del genere Lo stock cooler Che ci fa sempre comodo E va più che bene Perfetto E c'è che manca questo Il quad core da ram Vorrebbe 4 giga di ram Io dovrei averne due da 4 Che fanno 8 Questi facili da 4 lui giustamente A 1066 Vabbè dovrebbe andare bene anche questo Quindi dobbiamo queste ram da qua E mettiamo queste qua Velocemente Perfetto In questa maniera E penso vada piuttosto bene Per orare più quanto riguarda le competenze Direi che abbiamo fatto un buon lavoro Dovrebbe quindi andare benissimo Facciamo con valida Ovviamente qui mettiamo il nostro E3 Che abbiamo rubato Che abbiamo preso in prestito dal nostro cliente E vediamo se è soddisfatto con questa lavorazione No non ancora Ha bisogno di altra roba Mmm Vorrebbe qualche altra cosa migliorata Potenza di calcolo Processore 100% E ram 53% Non va bene nemmeno così Cos'altro vorrebbe Quanto mi dà in sostanza 194 Potremmo comprargli la ram A questo punto Forse di Ti serve la ram di più 16 giga di ram Potrebbe essere un'idea Oppure puntiamo su un processore migliore Sinceramente non ho idea Però la ram non la posso comprare Perché se no spendo un botto di roba Questa è 32 giga Magari ne prendiamo 16 16 dovrebbero bastare Per quello che vorrebbe lui Quindi prendiamo questo E vediamo se bastano Penso di sì Con questi dovrebbe andare bene Quindi aspettiamo un attimo che arrivi il corriere Nel frattempo smontiamo di nuovo la ram Che sta qui dentro Che tanto non la voleva Comunque E la teniamo per ora dentro A una delle nostre zone Sempre cercare di trovare un buon posto Tipo qua per esempio Ok qua abbiamo sempre 2 giga Quindi non ce la faccio Aspettiamo un attimo Vediamo un po' Se la ram va bene per lui Oppure voleva qualcos'altro Però sinceramente il processore Dovrebbe andare bene È un quad core E penso più di così Non vorrebbe altre cose Arriva il nostro corriere Eccolo qua Così vediamo un attimo Se è tutto a posto Allora speriamo in realtà Che vada più che bene la ram Così siamo a posto Quindi li mettiamo anche I 16 giga di ram Dovrebbe andare più che bene Almeno ci spero in realtà Vediamo se è felice così In questa maniera No non è ancora felice Porca vacca Quanto vuoi di roba Condizione richiesta È più di così Che devo fare Cioè Ah oddio ho capito Che cos'è che vorrebbe ragazzi Però eh Dovrebbe andare bene Cioè Niente ho bisogno di misura Di processore Processore problem 38% Mori a ram 72% Direi che a questo punto Proveri a fare un benchmark Però non penso Perché non si aveva Le competenze in generale Cioè competenze in ufficio Le abbiamo fatte Sto facendo un po' di controlli Per vedere effettivamente Se il problema Era legato più che altro All'istate Perché dice anche stato In realtà Vorrebbe capire un po' Come è messo tutto quanto Ma però Dovrebbe andare bene ragazzi Gli ho messo tutto quello Che poteva richiedermi Effettivamente E non dovrebbero esserci problemi Nel fatto tempo Abbiamo un nuovo cliente Che vorrebbe Che vorrebbe capire Il problema Con il suo pc Ora lo controlliamo Non è un problema Mettiamo ovviamente a uno Questo aspettiamo un attimo Il tempo E vediamo un po' Allora Dovremo vedere Se si accendeva Però per il momento Magari facciamo giusto Un po' Un inizio Per capire Qual è il problema Controlliamo ovviamente Scheda video Anzi facciamo così Abbiamolo direttamente Direi di partire Con l'accensione Ma almeno per il momento Per capire se il problema È l'accensione O il dopo Dell'accensione Perché per il momento Sembrava andare abbastanza bene No però si ferma Mi sa Perché infatti Non riesce ad arrivare Al secondo step Perché quindi C'è qualche problema Probabilmente con qualcosa E l'avevo capito Dovrebbe essere l'hard disk Perché lì si blocca Perché il resto Votto avanti Se non se ce ne va Nemmeno penso Quindi andiamo nell'assembla Andiamo a fare Un piccolo Una piccola cosa Per vedere se è questo asus O comunque l'hard disk Il città Vediamo un po' Se uno dei problemi Sono tutti questi In sostanza Vediamo un po' Questo sembra essere a posto Proviamo anche il città Adesso l'hard disk E altrimenti Andiamo con altre cose Con la scheda madre Però per il momento Penso siano comunque Uno di questi due Il problema E no Questo è anche a posto Vediamo la ram 2-4 giga di ram Vediamo se È lo stesso Ma non penso Cioè io ci spero Almeno che non sia questo Vediamo un po' No tutto a posto Per il momento Proviamo allora A questo punto Anche la scheda madre E poi controlliamo Il processore Nel caso in cui Sia il processore Ma per ora tutto ok Quindi Speriamo che sia la scheda madre È la scheda madre Ogni volta È il problema Della scheda madre Abbiamo bisogno della deal DL598 Quindi andiamo a prenderci La deal DL98 Schieda madre 5-598 Perfetto E questa qua La compriamo Facciamo così Perfetto E adesso dovrebbe arrivare Anche il corriere Quindi un attimo Che smontiamo Questa scheda madre Con tutti i pezzi Relativi a questa cosa Questa qua ovviamente La buttiamo Perché tanto è distrutta E il corriere Sta arrivando Così ci porta Anche la roba Per l'altro tipo Così almeno Risolviamo il problema Di questo altro tipo Sperando che sia Quello che voleva Una 32 giga di ram Quindi mettiamo 32 giga di ram Tranquillamente adesso In questa maniera Tadan Convalidiamolo Convalidiamolo E spero davvero Che sia felice Sto tipo Perché se no Cavolo lo uccido Ok Tutto a posto Statua Condizione richiesta Se non vale Lo stato dovrebbe essere Tipo di antivirus Cosa del genere Quindi dovrebbe Un po' Stanto accenderlo E controllare In sostanza E quindi Accendiamolo E vediamo un po' Se tutto a posto Dovrebbe andare Senza problemi Facendo un attimo Anche un po' Di problemi Con Tutto il resto Vediamo un po' Se si accende Ok si accende Perfetto Al più tempo Che arrivi il corriere Con il nostro pacco Oficialmente Per comunicare altre cose Tutto a posto Si Centro download Drivers No Stata grafica Niente Rastrumenti Sono vari Anzi programmi Ok Quindi facciamo L'antivirus Così facciamo Anche un piccolo Controllo Per quanto riguarda Tutte le cose L'antivirus Che dovrebbe Teoricamente andare bene Ok Eccolo qua Fatto Quindi adesso Lo installiamo Anche in questa maniera Ogni volta Bisogna fare tipo Tricose cose Tipo scaricare Installare E fare altre cose E per sfortuna Mi sa che non c'è Nessuna skill Che tipo aumenta La velocità Sostanzo tipo Soddisfazioni più facili Vabbè Ci accontentiamo Software fatto Quindi adesso Lo avviamo E vediamo un attimo Assieme se è un problema Di antivirus O cose del genere Però teoricamente Facendolo così Con lo stato Dovremmo essere a posto E penso Qua cosa sicuramente La troverà Che da problemi Così così Nel frattempo Vediamo un po' Arriva qualche altro cliente No però Arrivato il nostro corriere Perfetto Quindi accettiamo Il nostro corriere Nel frattempo Andiamo a montare Su questa cosa qua La nuova scheda madre Che abbiamo appena preso Eccola qua Quindi attiviamo Tutto quanto Mettiamo Le inventatori Va bene La cpu Saldiamola Perfetto Saldiamolo Oddio un po' Di meno Non ricordo Quali due avesse Mi sa che aveva questi Mi sa che aveva un problema Poi ci mettiamo Questa di nuovo Ci mettiamo Il nostro falcon In questa maniera Così siamo a posto E ci mettiamo Anche le due ventole Quindi attiviamo Anche due Perfetto Quindi convalidiamolo Convalidiamolo E dovrebbe andare bene Per bernac Vediamo un po' Perfetto Tutto a posto Quindi guadagnato Anche dei soldi In questa maniera E ora bisogna Stanto aspettare Che finisca L'antivirus qua E dovremmo essere a posto Ok E 6 ragazzi Dovrebbe essere tutto a posto Quindi spegniamolo E dovremmo Aver fatto tutto quanto Nel frattempo qua Abbiamo buttato tutto No Svuotiamolo subito Perfetto Quindi facciamo Tipo La convalida E vediamo un po' Se è tutto a posto Io dovevo tanto darlo adesso E dovrebbe essere Perfetto Stato E' stato cosa? Forse dovevo tipo Ah ok Dovevo vedere tutti i pezzi Se sono a posto Che palle Per sfortuna non riesco a capire Quale sia il problema Quindi rinuncerò a lui Ragazzi In questa maniera Perché seriamente Non ho capito Quale fosse il problema Di tutto questo Cosa Quindi Boh Sinceramente Non ho idea Aspettiamo quindi I prossimi miei clienti E devo ben capire Alcune cose Perché in realtà Sono ancora messo male Con tipo per esempio Alcune cose che sono Magari in italiano E giustamente faccio Ma com'è Così si fa O così diverso Quindi quasi quasi Tornerò probabilmente A versione inglese Che potrebbe aiutarmi parecchio Comunque abbiamo le nuove skill Ora che ci penso E possiamo fare quindi Quattro di questi Più uno in più Quindi a questo punto Metterei tipo Il Coso Convincente No probabilmente Devo fare tipo così In questa maniera Quindi adesso abbiamo Un parsimonioso E poi dono un po' di soldi in più Quindi confermiamo l'abilità Perfetto E siamo lì allo 3 Nuovo cliente Vediamo un po' Ho ricevuto dalla mia banca Un'email in cui mi dicevano Che ci sono i movimenti strani Sul mio conto corrente Temo che sia un virus Per verificare la cosa Certamente Sicuramente è un virus Quindi Accendiamolo subito Subito Facciamo un'installazione Dell'antivirus Tutto ciò che riguarda Tutto questa cosa E fa tempo Aspita molti clienti Anche se sta comunque arrivando Più o meno La fine della giornata Quindi non saprei Vediamo un attimo Com'è messo Più che altro Spero che l'email Tipo non sia Un'email spam O comunque un'email Tipo per rubare dati Che potrebbe capitare Cosa molto probabile Effettivamente Comunque Per ora installiamo Tutto quello che ci serve E se avessimo dei cd Direttamente che ci permettono Di installarlo Senza non lo scaricare Sarebbe anche meglio Ma non so in realtà Come funziona sta cosa Quindi boh Bella domanda Quindi stiamo avviando Anche tutto quanto Sperando vada tutto bene Perfetto E sapete che quasi quasi Ho visto che qua C'era un programma Non è che lo stato È l'attivo tipo Al dover controllare Sotto a posto Con la scheda madre Non mia idea Sinceramente vorrei capirlo Quindi scrivete Se voi lo sapete Perché io sono ancora Agli inizi del gioco Quindi non so Alcune cosette Che magari voi sapete Giocando tipo Un po' più spesso Rispetto a me Comunque sta quasi finando Anche l'antivirus Teoricamente dovrei riuscire A finirlo In tempo Per la chiusura Del negozio Sempre se riesco Mi sa che non ce la faccio No per pochissimo Perché il negozio Chiude alle 7 Io non ce la farò Perfetto Ho allenato pochissimo oggi Però va bene così Perché comunque oggi Mi è nato abbastanza male E quindi facciamo Un bel reboot E siamo a posto Quindi si sta adesso Resettando Il computer Perfetto E adesso lo spegniamo Tranquillamente Appena fatto questo E lo diamo ad una bella Così siamo a posto Perfetto Quindi spegniamolo In questa maniera E ci siamo Perfetto Abbiamo completato Anche questo altro computer Quindi convalidiamolo E lo diamo a lei Terminiamo Perfetto Quindi quest'altro È andato La giornata prosegue Con il nostro primo cliente Alle 10 Se vuole dire le 11 In realtà E non vuole avviarsi Forse è rotto Va bene Controlliamo quindi Un paio di pezzi Controlliamo per il momento L'alimentatore Quindi andiamo per ora Su 1 Così controlliamo un po' Tutto quanto E poi vediamo Nel frattempo Speriamo che qualche altro cliente Entra Così possiamo fare più cose Contemporaneamente No questo è tutto a posto Controlliamo se la madre Che da quello che ho visto Ultimamente La madre si rompe sempre Voi di me ne fate A rompere le schede madre Esattamente C'è buona idea Speriamo comunque Non sia quella E infatti era questa La megabyte La fara di 4 Quindi ovviamente Bisogna andare a comprarne Un'altra E ti pare Quindi vediamo un po' Se ci sta La fara di 4 Eccola qua Quindi compriamo anche questa In questa maniera E nel frattempo Noi smontiamo tutto Qui dentro Quindi questa Però la possiamo buttare Tanto non serve Aprile un attimo Quindi che arriva il corriere Ora ci mette Molto di meno ragazzi Con i punti Abbiamo sbloccato Quindi GG a noi Che finalmente possiamo Prenderci nuove cose E abbiamo visto Abbiamo sbloccato Anche l'8 core Dell'MD Che è la 9270 GG è tanta roba E il corriere Dovrebbe arrivare Più o meno A momenti Vediamo un po' Appena arriva Tutto quanto Ok sta arrivando Eccolo qua Che bello che è Perfetto E quindi accettiamo Il suo pacco Che avrà La scheda madre Allora rimontiamo Ovviamente tutto quanto Con precisione In questa maniera Por cacca Quanta roba c'è va sopra Quindi mettiamo anche questo Mettiamo il nostro Nostra cpu Ovviamente solleviamo Tutte le cose Ovviamente pasta termica Così siamo a posto Un chicco di riso Ma qua ci mette Tipo addirittura Tutto il riso dentro Vabbè Lasciate stare Va tutta squalida Ok E andiamo quindi A fare questa cosa qua Perfetto Terminato Terminato anche questo Bene Abbiamo recuperato un po' di roba Siamo ancora Alli 12 Quindi dobbiamo aspettare Ancora altri clienti Sperando che Ne arrivi qualcun altro Perché da quello che ho visto Ok la reputazione aumenta Ma la gente che entra Sempre di meno Dall'ultimi giorni Quindi Non so bene come funziona Esattamente Ecco un altro cliente Con un altro virus Ovviamente Soliti problemi con i virus E cose del genere Quindi ci siamo Vediamo un attimo Se il problema è sempre virus Come sospettavo Ok Immaginavo fosse un virus Perfetto Quindi mi tocca di nuovo Scaricare tutto quanto E fare tutte le cose Di Del solito Per l'antivirus Quindi cerchiamo un attimo Di fare tutte le cose Sperando arrivi qualcun altro Qua Windows 10 Si avvia velocemente Beati loro Meno male che non c'è gente Tipo che ci mette un'eternità Ad avviare le cose Qua facciamo anche Piuttosto velocemente Tutto quanto Senza troppi problemi In questa maniera Perfetto E' andato Mettiamo anche L'installazione E aspettiamo un attimo Che passa il tempo E va a tempo Noi non mangiamo mai In questo posto Ora che ci penso Quindi Pauza pranzo non c'è Cioè tu fai tutto A tirata Di cattiveria Proprio Alla faccia dello sfruttamento Delle persone Va bene Ci siamo Però dovremmo riuscire Tranquillamente A fare tutto quanto Senza troppi problemi E speriamo Non siano troppi antivirus E al per il momento Sembrano tutti a posto Perché ci stiamo mettendo anche I virus e cose del genere Spero non ci paghi Anche abbastanza Per il lavoro Quindi facciamo un bel riavvio Ne aveva parecchi Di virus Scherzavo Ok ci siamo E adesso si dovrebbe riavviare Poi lo spegniamo E siamo a posto Vediamo un po' se è vero Ok Tutto a posto Distrutti un sacco di virus Sette virus in totale Spegniamolo ovviamente Perché tanto non ci interessa E poi siamo a posto E possiamo consegnarlo Alla sua Piccolissima proprietaria Quindi eccola qua Mei E abbiamo guadagnato Un pochino di soldi Aspettiamo altri clienti Che dovrebbero arrivare Si spera presto Ed ecco qui Un'altra cliente insoddisfatta Con problemi In generale Dice che c'è un guasto Tutti i problemi Devono essere risolti Va bene Scopriamo assieme Qual è il problema Esattamente di questo Computer Ovviamente Prima di tutto Accendiamolo E controlliamo un po' Che succede Allora Va tutto a posto Il processore ci sta La ram ci sta Tutto funziona tranquillamente E poi non si avvia Perfetto Quindi il problema Dovrebbe essere Legato a qualcosa Che è attaccato Al computer Quindi dalla parte Normale Va bene Quindi assembliamolo Vediamo Ovviamente Secondo me È la scheda madre Vediamo se ho ragione Nuovamente Tre schede madre In un giorno Direi che qualcuno Ha qualche problema E se le mangia Ste schede madre No E ovviamente Che succede Crash anche a me Quindi tutto Abbastanza collegato Comunque Io per il momento Vi fermo qui Diciate nei commenti Se vi piacerebbe vedere Nuove puntate Qui su hardware Engineers Mi raccomando E noi ci vediamo presto A un nuovissimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi